Ciao Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti vedere che ti sono vicino in questo momento. Mi raccomando non avere paura e appena passa il virus ti aspetto al campo e ci salutiamo da vicino. Va bene, ti mando un forte abbraccio e sempre Forza Napoli, ciao!